Buongiorno a tutti, ben ritrovati ancora in diretta su DNews TV per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca, con un fatto ancora da chiarire sul quale sta indagando la questura di Udine che sta procedendo d'ufficio perché ieri sera verso le 19 la squadra serba che sta partecipando agli europei under 16 che si stanno tenendo come sapete in città in questo periodo europei di basket che coinvolge ovviamente molte nazionalità diverse, dicevamo la squadra serba stava rientrando in albergo e nella zona di via Poscolle ha incrociato si presume un cittadino straniero il quale avrebbe urlato qualche slogan nazionalista relativo al Kosovo ovviamente nazionalista albanese, i giocatori avrebbero proseguito per la loro strada, l'uomo in bicicletta li avrebbe seguiti per un po' e qualche ragazzo ha sostenuto di aver visto l'uomo estrarre un oggetto che da lontano poteva sembrare anche un coltellino, l'arma però non è stata brandita, non ci sono state minacce dirette ai giocatori, non c'è stato assolutamente colluttazione o scontro fra i due gruppi anche perché l'uomo in bicicletta era da solo, la squadra serba ovviamente era in buon numero ma la squadra ha deciso di comunque contattare la polizia, la questura che noi abbiamo appena ascoltato e ci ha raccontato come appunto stia procedendo d'ufficio senza denunce dopo la segnalazione per cercare di identificare questa persona in bicicletta la quale come dicevamo si è limitata a seguire da lontano i giocatori della nazionale under 16 serba e a pronunciare alcuni slogan nazionalisti relativi al Kosovo. Questa è la notizia che è arrivata questa mattina in redazione e che appunto abbiamo commentato insieme alla questura che ci ha dato queste informazioni e chiediamo a questo punto siamo in collegamento telefonico con Davide Michalic l'organizzatore degli europei under 16 come hanno ricevuto loro questa notizia e come si stanno svolgendo comunque le competizioni che sicuramente stanno andando al meglio anche in virtù degli ottimi risultati della squadra italiana. Davide buongiorno ben ritrovato. Ciao buongiorno. Buongiorno Davide. Intanto ti è stato comunicato questa notizia. Partiamo dall'ultima di cronaca. Stiamo prestando a dare il via all'azione di gala sotto l'alloggio degli Anello che è una delle cose più belle che possiamo far vedere alle delegazioni ospite. Insomma è un po' il tiro a rocchiello del nostro europeo. Si è arrivata questa notizia con il delegato Serbo. Ci siamo attivati immediatamente. Mi sembra una ricostruzione fedele. Quella che tu hai fatto è chiaro quando poi si prende una connotazione politica in questo caso poi si crea un sacco di enfasi. Devo dire che io devo dir solo bravi alla nostra polizia che è stata tempestiva, intervenuta, ha dato massima assistenza a quello che noi potevamo fare. Mi sembra un caso, insomma, faccio il coso scritto lì. Sono cose che purtroppo non devono mai succedere. Poi stavano facendo le indagini del caso d'ufficio. Noi abbiamo dato massima assistenza, disponibilità a Giovanni Adami. C'è subito recato lì nell'albergo. Io ho fatto andare avanti l'azione di gala. Mi sembra che sia tutto sotto controllo. Stamattina all'allenamento c'era una pattuglia della polizia in modo da garantire serenità e sicurezza ai ragazzi. Credo che noi possiamo fare poco in questo caso. Sicuramente la Serbia è rimasta anche molto male perché l'altro giorno è uscita in maniera abbastanza pirotecnica, in una semifinale meravigliosa contro la Spagna punto a punto da un tempo superventare. Quindi, insomma, siamo un po' magari anche agitati. Però devo dire che quello che posso dire dal mio punto di vista è bravi alle nostre forze dell'ordine perché hanno subito dato dimostrazione di prontezza, efficienza e ospitalità perché noi in Friuli siamo anche molto bravi ad ospitare. Quindi, la ricostruzione mi sembra precisa. Io preferirei parlare della parte del campo che qui e qua credo sia una meravigliosa, una parte agonistica e sportiva. Si tratta di un episodio, insomma, circostanziato che si sarebbe verificato ieri sera. Però è giusto sottolineare come appunto ci sia stata massima accoglienza da parte delle forze dell'ordine e anche del comitato organizzatore. Un europeo che si sta svolgendo comunque nel migliore dei modi con gare ad alto spessore tecnico e con un'Italia davvero stratosferica. Ci avviciniamo alle semifinali. Questa sera sicuramente il Carnera sarà gremito, Davide. Sì. Bisogna dire che questo è un europeo under-16 ma il livello è clamoroso. È come fosse un europeo segno per il livello dei giocatori, per il seguito, l'attenzione. Quindi si è creata un po' tanta tensione anche esternamente e poi magari ha portato a farci dare troppa enfasi un episodio di fatto che forse poteva essere circoscritto a una sciocchezza da strada, non quello del senso ieri. Ma perché succede questo? Perché il livello del torneo è clamorosamente alto, tutti vogliono vincere. Io credo che in campo stiamo vedendo minimo 7-8 giocatori che nel giro di 4-5 anni giocheranno nell'NBA e non esaltano. Io sono rimasto a bocca aperta a vedere l'altra stiera ai quarti di finale, non me ne sono perso nemmeno uno. Su quattro partite lo scarto totale è stato di 7 punti, la dimostrazione del livellamento che c'è, ma il livellamento verso l'alto. L'Italia ci sta entusiasmando, stanno gettando il cuore oltre l'ostacolo, magari abbiamo qualche difficoltà di centimetri sotto canestro e stasera contro la Francia non partiamo a favoriti, però credo che il Carnera, come ha fatto anche l'altra sera, potrà veramente provare a colmare il game. Prima semifinale, domani la seconda. Davide, ne parleremo anche all'interno dei nostri prossimi notiziari perché vogliamo concentrarci proprio sul lato sportivo di questo evento e seguire gli azzurri da vicino, quindi grazie per il tuo intervento telefonico e poi ci rivedremo sicuramente nel corso delle edizioni pomeridiane. Grazie, buona giornata a tutti, ciao. Buona giornata Davide, noi continuiamo con la cronaca perché ci sono stati diversi interventi da parte dei carabinieri per Ferragosto sulle strade della provincia, sette conducenti sono stati denunciati e uno sanzionato amministrativamente per guida sotto l'effetto dell'alcol, intensificati infatti controlli durante il Ferragosto anche in vista del considerevole traffico e in questo contesto ben sette conducenti di veicoli sono stati deferiti in stato di libertà e uno sanzionato amministrativamente. Il primo è Mene Monzo sulla strada regionale 52 dai carabinieri di Villa Santina, un 61enne in evidente stato di ebrezza alcolica ha rifiutato di sottoporsi la prova dell'etilometro. A Sappada invece un 29enne di Montebelluna con un tasso di alcol del sangue da 1,10 e paretente di guida ritirata. Corno di Rosazzo invece un 34enne del luogo con un tasso di alcol di 1,38. A Manzano sulla 56 i carabinieri di Palmanova hanno fermato un quarantenne del luogo che stava guidando con 1,77. A Tarcento invece carabinieri di Taipana un trentenne in stato evidente di ebrezza alcolica anche lui si è rifiutato di sottoporsi alla prova dell'etilometro denunciato e patente ritirata. A San Giorgio di Nogaro un 26enne polacco anche questo non ha voluto sottoporsi al test. A Carlino un 29enne di Marano Lagunare 1,21 di alcol nel sangue patente ritirata e veicolo affidato ad un custode. Infine a Udine un 23enne con 1,12 di tasso di alcol nel sangue e un 20enne di Martignacco è stato anche segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti perché è stato trovato con 8 grammi di hashish con sé. Adesso cambiamo pagina parliamo di vacanze ma anche di territorio e soprattutto di investimenti futuri che riguardano i comuni della bassa in particolare del Gradese perché il progetto di cooperazione territoriale Mar-Etiaris diventerà realtà ricevuto infatti i finanziamenti dell'Unione Europea. Sentiamo. Buone notizie per Grado per il piano di sviluppo rurale. Buonissime notizie. Siamo arrivati primi nella graduatoria quindi con un punteggio elevatissimo e adesso comincia la sfida quella vera perché abbiamo due anni per mettere in campo tutte le politiche previste in questo bando. In questo progetto noi abbiamo 77 partner, 10 comuni coinvolti, 54 mila abitanti, 1 milione e 400 mila presenze turistiche a Grado, 20 aziende agricole coinvolte e abbiamo messo a sistema le eccellenze del nostro territorio. Ogni amministrazione delle 10 coinvolte puntualmente ha degli investimenti pubblici in programma, ci sono anche molti investimenti privati e siamo riusciti ad ottenere 3 milioni di euro di fondi comunitari. Ma questa operazione secondo me aveva un valore in sé, nel senso che mettere assieme 10 amministrazioni e abituarsi a lavorare assieme su dei progetti e su delle prospettive condivise è un qualcosa di rivoluzionario nel sistema attuale. Si punta sulla bici e su una rete di struttura al servizio dei turisti, di coloro che scelgono questa zona per le loro vacanze, per i loro giri. Ma la bicicletta è diventata un asse portante della nostra politica ma non solo. Il turista vuole sempre più praticare il territorio e lo fa attraverso il turismo slow. Questo crea delle ricadute diffuse su tutto il territorio agricolo. Ricordo che Grado è il primo comune agricolo dell'ex provincia di Gorizia. I contributi europei servono per l'apertura di spazi, di vendita al dettaglio per intercettare questo turismo. Prevediamo di consumare qui a Grado dei prodotti agroalimentari di qualità che sono prodotti sul nostro territorio e questo si può fare solo facendo collaborare dei partner privati che sono gli alberghi di Grado, eventualmente poi i ristoranti, i campeggi, mettendoli in rete con quella che è la produzione agroalimentare. La missione del Consiglio regionale in Friuli Venezia Giulia in Australia in questi giorni con l'organizzazione dell'Associazione Giuliani nel Mondo si è conclusa con un incontro istituzionale con il console generale d'Italia Melbourne Pierluigi Trombetta e con il presidente e segretario generale della Camera di Commercio Italo-Australiana Luca Scribani Rossi e Giovanni Caniglia. Nel corso della conversazione avuta dal presidente dell'Assemblea legislativa Piero Mauro Zanin e dal consigliere regionale Giuseppe Gersinic sono stati illustrati i termini dei forti legami commerciali tra il nostro paese e quello australiano. Da parte sua il presidente Zanin ha ricordato che il porto di Trieste costituisce un perno strategico nei rapporti con il centro Europa e con la Cina. Inoltre ha anche sottolineato che la presenza in Friuli Venezia Giulia di un colosso delle costruzioni navali come Fincantieri che si sta consolidando anche sul mercato asiatico può contribuire ad allacciare nuove importanti relazioni commerciali. Una considerazione congiunta è stata fatta anche sulle opportunità che Melbourne e lo stato di Victoria potranno offrire alla regione nello sviluppo dei settori vinicolo, ambientale e delle energie rinnovabili. A proposito di energia e di ambiente sentiamo quali sono le nuove considerazioni da parte dell'ONU sul riscaldamento globale e sul clima del nostro pianeta. La crisi climatica con la siccità e gli eventi atmosferici estremi danneggia la produzione agricola dei paesi più poveri affamando le popolazioni e costringendole a migrare. Ma l'agricoltura non è soltanto la vittima del riscaldamento globale, è anche un formidabile strumento per combatterlo, purché sia sostenibile però e sia accompagnata da una buona gestione del suolo con riforestazione e difesa degli ecosistemi. E contano anche le scelte alimentari dei singoli. Una dieta con più vegetali e meno carne riduce in modo significativo le emissioni di gas serra. E questo in sintesi il messaggio lanciato dal rapporto diffuso dal Comitato Scientifico dell'ONU sul clima dal titolo Cambiamento Climatico e Territorio. L'IPCC nell'ottobre scorso aveva pubblicato uno storico studio che avvertiva che rimanevano solo una dozzina di anni per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi dai livelli preindustriali, l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi sul clima. Secondo lo studio, il riscaldamento globale provocato dai gas serra emessi dall'uomo fa aumentare siccità, ondate di calore e desertificazione, ma aumentano anche gli eventi meteorologici estremi come cicloni e alluvioni. E a proposito di ambiente e di alluvioni, la tempesta avaia che ha devastato le nostre montagne l'ottobre scorso è un ricordo anche se rimangono molti alberi ancora di cui prendersi cura nelle nostre montagne. Chiunque vada in montagna in questi giorni può ancora vedere purtroppo, nonostante il grande lavoro che è stato fatto, gli esiti di questa tempesta e se ne sta occupando in prima persona direttamente un'organizzazione che si chiama Giant Rees Foundation, anche con una summer school dedicata proprio a queste tematiche. Allora approfondiamo questo tema insieme a Francesca Santoro che è con un ospite in diretta collegata da Tarcento. Buongiorno e ben ritrovata Francesca. Sì, buongiorno Valentina. Esatto, è proprio come hai detto tu, siamo con Andrea Maroe che è il presidente della fondazione che hai presentato. Voi in questo periodo siete occupati con una summer school, ne avete già fatte due, adesso la terza. Di cosa si tratta? Sì, stiamo organizzando la terza settimana di summer school, in realtà forest summer school, quindi ci occupiamo di ricostruire la foresta all'interno di quello che è diventato il progetto Fai nascere un bosco nuovo in seguito alle devastazioni della tempesta vaia, la devastazione dei nostri boschi, soprattutto in Carnia, e quindi dove abbiamo deciso di dare una mano ma soprattutto di inventare un sistema perché i boschi siano più resilienti. Non si inventa niente però bisogna studiare affinché appunto impariamo a costruire dei boschi migliori rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad ora. Chi partecipa alla vostra summer school? Inizialmente era rivolta soprattutto a studenti di agraria, periti agrari e universitari, poi però le domande sono arrivate un po' da ovunque, quindi ci sono stati anche ingegneri, studenti di lingue, studenti di italiano eccetera, e abbiamo pensato effettivamente che fosse necessario aprire un po' a tutti quanti proprio perché uno degli scopi della fondazione è proprio quello di divulgare il più possibile quella che è la conoscenza delle foreste e degli alberi ed in effetti fare in modo che le varie conoscenze possano incontrarsi all'interno di quello che è il sistema albero e il grande super organismo che è la foresta. Siete impegnati su vari fronti, tra cui la ricostruzione di un sentiero. Sì, proprio al Passo del Pura c'è un sentiero che avevamo già adottato prima della tempesta, il sentiero era dedicato agli ipovedenti e non vedenti e abbiamo, purtroppo la tempesta vaia lo ha quasi distrutto, abbiamo deciso appunto di ricostruirlo e lasciando però anche i segni di questa devastazione proprio per mostrare che cosa era successo, cosa succederà perché non sarà un progetto a breve termine, sarà un progetto che probabilmente andrà avanti per i prossimi vent'anni e quindi anche la Summer School si è innestata in questo progetto e portiamo i ragazzi, gli allievi ma anche gli insegnanti, i volontari a lavorare direttamente all'interno di questa foresta e di questa ricostruzione del sentiero. In realtà la giornata si sviluppa lavorando otto ore direttamente nel bosco e altre due ore sono dedicate allo studio, arrivano esperti un po' da tutta Italia che ci raccontano e vanno dalla climatologia alla foresta, alla biologia alla conoscenza botanica delle piante. A distanza di mesi dalla tempesta secondo voi è stato fatto abbastanza per la ricostruzione o si sta facendo abbastanza? Diciamo che la parte emergenziale è stata affrontata in maniera adeguata e c'è ancora molto da fare però, in questo momento si stanno raccogliendo, si stanno ancora portando fuori gli alberi rotti e poi verrà tutta l'operazione di ricostruzione del bosco ma soprattutto per quanto posso pensare io, quella di consolidamento dei versanti dove il bosco è effettivamente sparito e quindi c'è il pericolo del dilavamento del terreno, soprattutto del substrato umico che è quello che favorisce poi il ripristino del bosco anche da un punto di vista naturale. Diamo le coordinate se qualcuno fosse interessato all'attività della vostra associazione. Basta arrivare sul sito www.giantrees.org, giantrees 2T e 2E e invece per iscriversi, c'è ancora posto all'ultima settimana di Summer School, almeno per quest'anno, basta scrivere a info chiocciola giantrees.org. Grazie a D'Andrea Maroe, a te Valentina. Grazie Francesca e buon lavoro a questi salvaboschi, li possiamo definire così, adesso invece torniamo a Udine perché questa sera ci sarà un grande evento, è quello del Festival dei Cuori, dopo il successo dello scorso anno torna all'appuntamento alle 21 con il Gran Galà del Folclore che si terrà nel piazzale del Castello alla presenza di tutti i gruppi partecipanti. Il Festival è giunto al prestigioso traguardo della cinquantesima edizione e dal 15, quindi da ieri al 21 agosto porterà il villaggio globale in regione, in particolare in Friuli, con tanti giovani da tutto il mondo, le loro tradizioni, usi e costumi. 300 i partecipanti provenienti da 9 diverse nazioni per un totale di 10 gruppi che parleranno ovviamente lingue diverse. Una buona occasione per dimostrare come culture diverse possano collaborare senza prevaricazioni e anche convivere. il piazzale del Castello sarà la cornice perfetta per questi eventi. Parteciperanno i gruppi folk provenienti da Cuba, dalla Kamchatka, dall'India, dall'isola di Pasqua, dalle isole Marchesi, dalla Macedonia, dal Peru, dal Sudafrica e per l'Italia il gruppo Chilo Ermacora di Tarcento, ovviamente gli sbandieratori di Rioni di Cori. Andiamo invece ad Aquileia dove ieri sera l'orchestra, la Gustav Mahler Jungen d'Orchester ha tenuto un concerto affollatissimo, sold out infatti la basilica nella serata di ieri con oltre 800 presenze nella cornice suggestiva della basilica. Un concerto frutto per il terzo anno consecutivo del progetto di residenza promosso dal Teatro Verdi di Pordenone. Viene costruita quindi una produzione che adesso prenderà il largo per le capitali europee della grande musica da Salzburgo ad Amsterdam, Dresda, Essen, Francoforte e Lisbona che poi tornerà al Verdi a Pordenone il 3 e il 4 settembre. Ieri il concerto è stato guidato dal direttore austriaco Tobias Wögerer che ha guidato l'orchestra per una settimana di prove nei due concerti d'esordio. Ieri ad Aquileia e questa sera si replica la Snyder o Di Maiano alle ore 20 e 30. Wögerer ha diretto un programma di grande coinvelgimento accompagnando i musicisti tutti tra 18 e 26 anni nella rilettura di due immortali e capolavori la Daggio e la fuga 546 di Mozart e poi anche lo Schubert di una pagina sinfonica molto importante la grande, l'ultimo lavoro portato a termine nel genere sinfonico dal grande compositore tedesco. La sentiamo un breve strato. Questa sera quindi si replica la Snyder o Di Maiano a partire dalle 20 e 30. Parliamo adesso invece di Paolo Maurensic che ieri è stato ospite a Lignano Pineta per gli incontri con l'autore con il vino ha voluto presentare il suo nuovo romanzo dedicato di nuovo al mondo degli scacchi anche se in una variante particolare quella del Chaturanga, l'antenato indiano degli scacchi nei suoi sogni di bambino del protagonista è apparsa una tigre che poi si è fatta reale ma proprio quella tigre gli permetterà di entrare alla corte del Marajà e giocare importanti tornei di scacchi portandolo anche in Europa. Un giovane servo, questo è il protagonista, un giovane schiavo che intreccia la sua storia con quella di un'Europa lacerata ormai in procinto di affrontare la seconda guerra mondiale. Sentiamo l'autore. E' sicuramente l'ultimo libro sugli scacchi che scriverò. Non pensavo di scriverlo perché mi ero dimenticato di questo particolare autore orientale. Naturalmente la storia riguarda tutta la sua vita che solo parte quella di un famoso scacchista. Per il resto è in parte ricostruita attraverso delle notizie e delle ricerche che ho fatto. Queste sono le parole di Maurensi nel presentare la sua ultima opera. Adesso invece ritorniamo alla Dacia Arena dove c'è ancora Jacopo Romeo che ci racconta quella che sarà la giornata di quest'oggi dell'Udinese in vista dell'impegno in Coppa Italia ma poi anche dell'esordio in campionato. Buongiorno, ben ritrovato Jacopo. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovato anche a te Valentina. A chi ci segue da casa? Sì, perché oramai il countdown è iniziato. Mancano due giorni, poco più di 48 ore, al primo test ufficiale dell'Udinese per la stagione 19-20. Si partirà qui alla Dacia Arena contro Suttirol, terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Dunque si fa subito sul serissimo perché si va in partita secca. È vero contro un avversario che è di due categorie inferiore all'Udinese ma c'è sempre da tenere le antenne dritte perché Suttirol intanto ha già fatto uno scalpo abbastanza illustre eliminando in trasferta la Virtus Entella, squadra di Serie B. E soprattutto perché sorprese in questa fase della stagione sono sempre un po' dietro l'angolo. L'abbiamo visto anche nei precedenti turni quando squadre di Serie C hanno sorpreso anche con pagine molto ben attrezzate del campionato cadetto. Da questa fase entra in gioco l'Udinese così come tutte le altre squadre di Serie A o meglio quelle che sono classificate dal nono posto in giù nella passata stagione e dunque bisognerà tenere le antenne dritte perché sicuramente Suttirol pur essendo naturalmente inferiore per valori tecnici alla formazione di Mr. Igor Tudor cercherà di mettere in campo tutte quelle caratteristiche anche morali tra virgolette che potrebbero agevolarne nel tentare quella che sarebbe una vera e propria impresa e poi venire a giocare in questo stadio con tanta gente, un stadio splendido ti dà delle motivazioni extra soprattutto se vieni da una categoria per l'appunto inferiore. L'Udinese dunque la sta preparando con la massima soglia di attenzione perché quello che pretende sempre Igor Tudor ha maggior ragione in queste che possono essere tra virgolette le classiche partite un po' tra bocchetto. Da questo pomeriggio la squadra ricomincerà ad allenarsi. Ieri nonostante fosse Ferragosto una doppia seduta dunque lavoro sia al mattino che al pomeriggio oggi mezza giornata di stacco la squadra non si è allenata questa mattina. L'Ur farà partire dagli ore 18, naturalmente alle 17.30 saremo live e vi mostreremo tutto quello che accadrà sui campi del Bruseschi salvo che la seduta non sia a porte chiuse perché iniziamo ad avvicinarci un po' al fatidico giorno della partita e dunque è possibile che Mr. Tudor voglia lavorare anche giustamente al riparo da occhi indiscreti. Per provare cosa? Per provare innanzitutto tutte le soluzioni tattiche sulle quali però l'Udinese oramai lavora all'inizio del ritiro e già in questa settimana è entrata fisiologicamente nel dettaglio non appena scoperto che sarebbe stato il sottiro all'avversario ma anche per iniziare a sciogliere quelli che sono i dubbi per fortuna tanti vista l'abbondanza che c'è in merito alla formazione ad esempio tutti i tifosi anche un po' attendono il debutto di Wallace che dovrebbe partire comunque dalla panchina c'è da capire anche lì davanti chi giocherà perché c'è Capitano Lasagna c'è Nestorowski, c'è Nacio Pussetto, c'è anche Lucas Tiodorce che insomma tutti attaccanti in un certo spessore è in difesa con De Maio che ha avuto questo piccolo problemino contro la Wasl ed è diciamo così in dubbio ma non c'è nessun stiramento non si tratta di niente di grave lo rivedremo poi nel caso eventualmente col Milan ma è in dubbio quindi non è neanche detto che salti la gara e vedremo quello che succederà appunto anche nel pacchetto arretrato per quanto riguarda le scelte di Mr. Tudor perché c'è Rodrigo Becao, altro volto nuovo è ritornato William Trostekong che sì da poco qui a Udine da poco più di una settimana ma già si è messo ampiamente al pari con i compagni dopo le vacanze prolungate complesse Coppa d'Africa dunque una serie di piacevolissimi dubbi di formazioni che domani il Mr. Magari ci aiuterà a decodificare anche nella sua conferenza stampa di presentazione fissata per le ore 13 che vi mostreremo in diretta ma la nostra diretta partirà a mezz'ora prima perché alle 12.30 ascolteremo anche le prime parole in conferenza al nuovo giocatore bianconero di Wallace Grazie, grazie Jacopo, hai fatto bene a ricordare anche gli appuntamenti di domani adesso invece diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questa giornata che è iniziata con qualche velatura ma che continuerà sempre comunque con bel tempo anche se non è escluso qualche piccolo temporale qualche nuvolosità pomeridiana nel pomeriggio in montagna che potrebbe appunto portare anche a un temporale ma non è ancora certo su pianura e costa il cielo sarà prevalentemente sereno forse in serata qualche velatura e in montagna appunto è probabile formazione di nuvolosità ci sarà Borino sulla costa che nel pomeriggio invece girerà di Brezza è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito ci sentiamo nel pomeriggio anzi ci vediamo nel pomeriggio nelle nostre prossime edizioni alle 16 e alle 19 e ovviamente non perdete l'appuntamento pomeridiano dedicato alla preparazione dell'udinese calcio alle ore 17.30 a più tardi a più tardi Grazie.